La prima stagione a Roma è stata quella del celeberrimo gol annullato a Turone. Che ricordi hai di quell'episodio? Purtroppo ho capito velocemente come funzionava il mondo del calcio e che è un peccato perché purtroppo secondo me deve comandare la meritocrazia. È stato annullato un gol veramente incredibile perché Ramone era vicino a me che è stato un calcio in punizione di Bartolomei. Lui è partito, si è inserito da dietro. Truzzo ha fatto punta che aveva due uomini dietro, Shirea e Brigham, sembra. Lui ha anticipato tutti perché è clamoroso annullare qualcosa tra i giochi. È stata una cosa in giustizia. Stati nei pali è ancora oggi.